Io volevo innanzitutto ringraziarvi per aver aperto con i dati, perché credo che questa occasione della pandemia sia anche un momento in cui serve ragionare a partire dai dati. Non è che ci sono delle opinioni qui, poi c'è un modo di leggere i dati, di prendere delle decisioni a partire dai dati, ma davvero tutti quanti abbiamo bisogno di ripartire un po' dalla realtà e di utilizzare i dati che nel discorso pubblico italiano, quando uno parla di dati, gli viene in mente la sua professoressa di matematica delle medie che lo torturava e guarda da un'altra parte. Invece è assolutamente necessario guardare ai dati, perché ci si rende conto di quello che sta succedendo. E da quello che raccontava il professor Cicchetti, a me vengono in mente due cose. La prima è la questione dell'aumento esponenziale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le cose esplodono e si vede dai dati che faceva vedere il professor Cicchetti. L'Italia, quando la Francia e la Spagna hanno raggiunto il milione di casi, l'Italia stava poco sopra i 500 mila casi. In pochissimo tempo noi siamo arrivati al milione di casi. Questo è successo circa tre settimane fa. Questo perché appunto il virus ha un aumento esponenziale. Sempre a proposito dell'importanza dei dati, mi pare che nel milione sono compresi tutti, cioè anche i guariti, no? Il milione di... Non vorrei... Tutti. È un milione di casi. Lo dicevo solo per fare chiarezza. Prego, prego. L'uno su sessanta. Questa è la prima cosa. La seconda cosa importante che emerge da quello che diceva il professor Cicchetti è il tema delle altre patologie. Cioè qualche settimana fa, quando si discuteva delle misure, sono troppo dure, sono abbastanza efficaci, tutti quanti guardavamo solo ai dati di quei giorni del virus. Ma non consideravamo appunto la grande questione, che è quella che stiamo vedendo purtroppo nei dati oggi, e ce ne rendiamo conto oggi, del fatto che la crescita del virus è esponenziale. Si occupano tanti posti letto e se si occupano i posti letto del Covid si devono liberare dei posti letto che vengono di solito usati da altre patologie. E quindi questa cosa deve essere resa chiara perché in questo periodo noi parliamo tantissimo di Covid e diamo per scontato che il resto della sanità vada come al solito. Ma purtroppo in tantissime regioni italiane non è così. E quindi ci saranno poi dei problemi successivi sulle code, sulle visite che non sono state fatte, le operazioni, le visite che non sono state fatte in questo periodo. E dobbiamo tenerne conto per prendere delle decisioni. Poi rispetto a quello che diceva l'onorevole Borghi del confronto con gli altri paesi europei e anche il confronto tra regioni italiane, Io credo che se vogliamo guardare i dati, cioè alla realtà, quello che emerge sono alcune domande a cui poi noi dobbiamo trovare una risposta. Una domanda riguarda l'organizzazione sanitaria. Lo diceva lei Pancani prima. La Germania, che è un paese molto più grande dell'Italia perché ha 20 milioni di persone in più dell'Italia, noi abbiamo 60 milioni di abitanti, in Germania 80 milioni, ha meno contagiati ma soprattutto meno morti. E c'è una questione che qui ha sicuramente a che fare con l'organizzazione sanitaria. E questo andrà visto sia per i prossimi mesi che ci porteranno quando finalmente potremo avere accesso al vaccino e quando... però in questi mesi noi dobbiamo resistere. Quindi cercare di capire perché alcune regioni o alcuni paesi hanno un tasso di mortalità più basso. L'Italia continua ad avere un tasso di mortalità molto alto e questa è una cosa insomma su cui riflettere. La Germania, ricordo, è il secondo paese insieme all'Italia con il tasso di anzianità più alto d'Europa. Cioè in Germania non è che sono più giovani che in Italia. In Germania ci sono tanti anziani quanti in Italia in proporzione. E quindi c'è una cosa che ha a che fare con l'organizzazione sanitaria che dovremo guardare più nel dettaglio. La seconda cosa che mi viene in mente, guardando quello che fate vedere voi, anche le cartine, è che c'è il tema del nord-ovest. Io non posso non dimenticare che il nord-ovest è la parte più inquinata d'Italia. E quindi probabilmente c'è una correlazione tra inquinamento dell'aria e situazione sanitaria. E correlazione vuol dire che le due cose si muovono insieme. Non necessariamente che una causa l'altra, ma questa cosa si vede. E su questo dobbiamo riflettere anche per il futuro. Non c'è dubbio perché...